Sono innamorata, sto avendo un'avventura con la mia pizza, tu invece sembri in crisi come tua, che ti prende? Non posso. Come sarebbe? È una pizza margherita a Napoli, è un imperativo morale mangiare e goderti la pizza. Vorrei, ma tipo 5-6 chili in più e li ho messi tutti qui sulla pancia, come si dice? Qual è la parola più adatta? Una ciambella. Ce l'ho anch'io. Mi si sono sbottonati i jeans soltanto a guardarla. Senti, ti faccio una domanda. In tutti gli anni in cui ti sei spogliata davanti a un signore... Non sono tanti anni. Ok, beh. Ti ha mai chiesto di andartene? Se n'è mai andato lui piantandoti? No, perché non gli interessa. È in una stanza con una ragazza nuda, ha vinto la lotteria. Ascolta, io sono stufa di svegliarmi la mattina pentendomi di ogni singola cosa che ho mangiato il giorno prima, contando le calorie che ho consumato per sapere esattamente quanto disgusto proverò sotto la doccia. E allora mangio. Non ho intenzione di diventare obesa, ma basta sensi di colpa. Perciò ecco il programma. Finisco questa pizza e poi ce ne andiamo a guardare la partita. E domani facciamo un giretto e ci compriamo dei jeans più larghi. A Giovanni un po' di ciccia e ci compriamo dei jeans più larghi. e ci compriamo dei jeans più larghi. e ci compriamo dei jeans più larghi.